Ciao a tutti e bentornati a Pigliore di Storia. Tutte le regioni italiane hanno una bandiera, lo sapevate? Immagino di sì. Ma sono anche sicuro che la maggior parte di voi non le conosce tutte, anche perché alcune sono abbastanza sconosciute, a meno che non si abiti lì, o quasi. Ad esempio, se vi dicessi, com'è fatta la bandiera della Basilicata? Di che colore è la bandiera della Val d'Aosta? Ecco, sono convinto che tanti di voi non lo sappiano. Ma c'è una bandiera che credo che conosciamo tutti tra quelle delle regioni, e cioè la bandiera della Sardegna, che è questa qua, per chi proprio non la conoscesse, che è detta la bandiera dei quattro mori. È una bandiera famosissima e chiunque sia mai andato ad un concerto un po' grosso, a qualche manifestazione, ha visto che prima o poi è saltata fuori, perché qualcuno, qualche sardo che rivendica in questo modo la sua origine, c'è sempre. È una bandiera molto particolare, che ha una storia molto antica, quantomeno proveniente dall'epoca medievale, che però non è facile da ricostruire, anche perché, a seconda di chi lo chiedete, vi racconteranno una storia diversa. E anche sui libri si trovano storie diverse, alcune delle quali fanno originare la bandiera direttamente in Sardegna, altre che invece pensano che sia arrivata d'altrove, addirittura da fuori dall'Italia. Oggi proveremo a raccontare due di queste storie, quelle che sono più comunemente raccontate, perché comunque sono interessanti dal punto di vista storico, e poi cercheremo di capire quale di queste due è maggiormente seguita dagli storici. Quindi, se non volete perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla e partiamo a raccontare. La nostra storia inizia nel Medioevo, grosso modo intorno all'anno 1000. All'epoca, formalmente, la Sardegna era parte dell'Impero Romano, ovviamente non quello con capitale Roma, che nell'anno 1000 non esisteva più, ma quello che ne rimaneva, cioè l'Impero Romano d'Oriente, o Impero, se è unico Impero Romano come si chiamavano loro, o Impero Bizantino, così ci capiamo tutti e sappiamo di cosa stiamo parlando. In realtà l'Impero Bizantino, pur avendo ancora formalmente il controllo di questa, come di altre terre, questo controllo non lo esercitava più, perché da quando gli Arabi si erano espansi, avevano conquistato tutta la parte meridionale del Mediterraneo, avevano spinto le loro flotte verso nord, a tutti gli effetti i collegamenti tra la Sardegna, la Corsica, buona parte dell'Italia, e l'Impero Bizantino erano stati troncati. Questo cosa aveva comportato? Aveva comportato che progressivamente quelle strutture amministrative che l'Impero Bizantino aveva creato in Sardegna, avevano progressivamente acquisito una propria autonomia, fino a diventare a tutti gli effetti dei veri e propri stati, con una loro amministrazione e ovviamente un loro signore. In Sardegna, questa amministrazione dividerà l'isola in quattro territori, che venivano chiamati giudicati, il giudicato di Torres, il giudicato, lo vedete qua sulla cartina, il giudicato di Arborea, il giudicato di Cagliari e il giudicato di Gallura. Questi quattro giudicati si chiamavano così perché erano letteralmente governati da un giudice, che era coadiuvato molto spesso da un consiglio e che aveva tutti gli effetti il ruolo di sovrano, diciamo in questo modo. La Sardegna, come molte altre zone del centro-sud Italia, e in realtà anche del nord, soprattutto nei periodi peggiori, aveva subito per tutto il Medioevo una serie di attacchi, attacchi navali dei cosiddetti saraceni, cioè dei pirati di religione musulmana, etnia molto varia, c'erano arabi, c'erano berberi, nordafricani, c'erano addirittura provenienti dalla Spagna, che utilizzando i loro navi, utilizzando la loro maestria nel navigare, attaccavano di sorpresa gli insediamenti, soprattutto quelli sulla costa, e li raziavano. È una storia lunga, questa per l'Europa, pensate che addirittura si spinsero fino alla parte meridionale della Francia, in Provenza. Quindi immaginatevi la Sardegna quanto potesse essere preda di attacchi che, storicamente, iniziarono all'incirca nel 705 d.C. Il protagonista della nostra storia è appunto uno di questi pirati, che si chiamava Mujahid, ma che per qualche motivo la stereografia, probabilmente per semplificazione, la stereografia italiana ha sempre raccontato con il soprannome di Musetto o Museto, a seconda del libro che trovate. Non era esattamente solo un pirata, era un uomo politico, un generale che aveva fatto fortuna nella Spagna all'epoca occupata principalmente dei musulmani in Al-Andalus, qui era stato governatore di Valencia, aveva governato città in quella che è ancora oggi e l'Andalusia e poi si era spinto fino alle Baleari. Da qui, pochi anni dopo l'anno 1000, non si sa bene tra il 1500 e il 1013-1015, in questo periodo di tempo sapete che a volte non si è molto precisi perché si hanno dei resoconti diversi, fatto sta che in questo periodo di tempo approntò una grossa flotta, grossa per l'epoca, fatta da circa un centinaio di navi, si stima 110 navi, e un 10-15.000 uomini. Con questa flotta aveva un obiettivo, raggiungere la Sardegna, occuparne una parte o tutto, ovviamente non lo sappiamo, trasformarla in una base e utilizzarla per attaccare l'Italia, che all'epoca stava rifiorendo e stava diventando un bottino molto, molto ricco per i pirati saraceni, che peraltro già l'attaccavano non proveniendo dalla Spagna ma dal sud e dalla Sicilia occupata, dalla Calabria e così via. Come vi dicevo, in una data tra il 1500, 1500 ovviamente, e il 1015, Musetto lanciò il suo attacco, un attacco che, come viene raccontato dalle cronache dell'epoca, giunse completamente inaspettato, tanto che la flotta musulmana si presentò davanti a Torres, al porto di Torres, che era appunto la capitale del giudicato di Torres, assaltò la città, difesa dal giudice e da un gruppo di soldati probabilmente abbastanza raccoglitici, sconfisse l'esercito del giudice che peraltro venne a sua volta ammazzato e permise a Musetto di occupare la città e alcune altre roccaforti che diventarono la sua base. Musetto però, come vi dicevo, aveva altri obiettivi e l'obiettivo più vicino che attaccò subito dopo aver preso Torres si chiamava Pisa. Pisa all'epoca era una delle città più importanti dal punto di vista marinario, tanto che sapete benissimo è una delle storiche quattro repubbliche marinare, almeno quelle che ricordiamo più spesso, anche se le città erano di più e all'epoca stava letteralmente fiorendo. Aveva una delle flotte più importanti del Mediterraneo occidentale, rivaleggiava con Genova per il controllo di questa zona, ma quando Musetto decise di attaccare la città non aveva alcuna protezione. Perché? Perché la flotta di Pisa in quel momento non si trovava in città, non incrociava nel terreno davanti alla città, ma si era spostata molto a sud, in Calabria, proprio per dare la caccia a quei pirati saraceni che dal sud si spingevano verso nord. Non era stata un'ottima scelta, forse era stata la casualità. Qualcuno pensa che in realtà Musetto sapesse dell'allontanamento della flotta di Pisa. Fatto sta che i pirati saraceni provenienti dalla Sardegna attaccarono la città. Secondo alcuni resoconti riuscirono a catturarla e a razziarla, secondo altri si accontentarono tra virgolette di razziare il contado. Poi i carichi di prigionieri e di preziosi tornarono verso la Sardegna. La flotta di Pisa a questo punto tornò a nord saputa della razzia e cercò di catturare Musetto ma fu tutto inutile. Fu tutto inutile innanzitutto perché agirono da soli e non coinvolsero gli altri giudicati sardi che in qualche modo stavano anche loro cercando di organizzarsi per cacciare l'invasore. E fu inutile perché la flotta pisana che era molto pesante fatta di grosse navi non riuscì a catturare la flotta di Musetto che si rifugiò nelle sue roccaforti e aspettò semplicemente che la flotta pisana passasse. Non essendo riuscito ad annientarlo questo permise a Musetto di organizzare una nuova campagna che venne organizzata nei mesi successivi e che lo portò nuovamente dalle sue roccaforti ad attaccare l'Italia questa volta in un territorio tra l'attuale Toscana e la Liguria nell'antica città romana di Luni. Ora Luni oggi non esiste più ci sono solamente le rovine ma all'epoca era una città che seppur aveva perso gran parte dell'importanza che aveva avuto in epoca romana era ancora una città importante oggi quello che rimane della città è il termine che indica la zona che è ancora chiamata la Lunigiana all'epoca però esisteva ancora la città le truppe di Musetto sbarcarono entrarono in città la razziarono la distrussero si spinsero verso l'interno ma a questo punto caddero in un'imboscata ad organizzare quest'imboscata secondo la tradizione era stato il papa Benedetto VIII il quale aveva convinto le due repubbliche marinare che già all'epoca erano rivali di Pisa e di Genova a mettere da parte le loro divergenze unire la flotta o unire l'esercito per scacciare Musetto e le due in effetti l'avevano fatto a questo punto per la prima volta secondo questa versione entra in gioco la nostra bandiera non ancora intera attenzione non ancora intera ma rivediamo un attimino la bandiera come è fatta? lo vedete ha un campo bianco con una croce rossa in mezzo quella bandiera togliendo ovviamente le quattro teste di Moro è chiamata anche la croce di San Giorgio per intenderci la bandiera che ha la Repubblica di Genova piuttosto che la bandiera quindi adesso la bandiera del Comune di Genova piuttosto che la bandiera dell'Inghilterra ci abbiamo anche dedicato una pidola in passato fatto sta che secondo la tradizione il Papa avrebbe dato a Pisa e a Genova proprio questa bandiera come portafortuna tra virgolette nella loro campagna contro Musetto e la cosa in effetti funzionò la flotta di Pisa e quella di Genova bloccarono la flotta nemica le loro truppe sbarcarono attaccarono i musulmani che si erano sparsi per razziare e li eliminarono quasi tutti tanto che Musetto fu costretto a tornare verso la Sardegna fuggendo con le poche navi che si erano salvate una volta che fu tornato in Sardegna sarà però nuovamente attaccato questa volta da un'alleanza di pisani e di abitanti della Sardegna di Sardi che lo attaccarono in parte dal mare in parte dalla terra e lo costrinsero a fuggire a questo punto però la storia non finisce ma la bandiera di San Giorgio arriva anche in Sardegna dove viene considerato un portafortuna perché ha permesso di cacciare i musulmani invasori in realtà Musetto ci riproverà secondo quanto raccontano le cronache dell'epoca negli anni successivi ci provò più volte creando nuove flotte arruolando nuovi uomini molto spesso impegnando anche i territori che controllava in Andalusia cedendoli ad altri in cambio di denaro organizzò nuove flotte e tornò più volte a cercare di conquistare la Sardegna ma ogni volta l'alleanza tra Pisani e Sardi riusciva ad avere la meglio alla fine ormai vecchio stanco si dice ottantenne si era ritirato addirittura nel Lazio dove aveva creato delle basi da cui tornava a colpire come pirata l'Italia ma ancora una volta navi sarde e navi pisane gli avevano dato la caccia e alla fine erano riuscite a catturarlo la sua testa tagliata spiccata dal busto era stata mostrata come simbolo di vittoria secondo la tradizione i sardi furono così felici di essere riusciti finalmente a scacciare un uomo che a uccidere un uomo che per quasi 40 anni li aveva tormentati che decisero di mettere fisicamente un po' meno fisicamente la sua testa proprio sulla loro bandiera e di riempire i quattro campi rimasti vuoti nella bandiera di San Giorgio proprio con una testa di Moro che portava in testa quella specie di fazzoletto proprio tipico dei marinai perché quattro teste? beh secondo questa versione era un modo per ricordare che tutti e quattro i giudicati avevano combattuto quattro giudicati quattro teste di Moro il Moro sconfitto nella bandiera di San Giorgio che aveva guidato l'alleanza secondo questa versione l'origine quindi della bandiera è tutta fatta in Sardegna con un piccolo aiuto da parte dei pisani ma insomma grosso modo del tutto sarda è una versione che troverete molto spesso ma secondo la maggior parte degli storici non è reale secondo la maggior parte degli storici questa versione è nata probabilmente non prima del XIX secolo nel 1800 ed è stata creata al contrario partendo dalla bandiera notando che i Mori erano quattro quindi come quattro giudicati e riportandola a questo avvenimento quale sarebbe allora la vera origine della bandiera beh secondo gli storici l'origine non è sarda ma addirittura spagnola proverrebbe dal regno d'Aragona il periodo non è molto lontano ci spostiamo avanti di neanche un secolo perché la nostra storia inizia nel 1094 all'epoca la Spagna non era particolarmente cristiano cattolica anzi la maggior parte della Spagna era ancora occupata da musulmani che avevano iniziato a retrocedere rispetto a un secolo prima ma che ancora come vedete sulla cartina controllavano gran parte del territorio i regni cristiani si trovavano verso nord e uno di questi regni cristiani era il regno d'Aragona che nel 1094 era governato da un sovrano che si chiamava Sancio Ramirez Sancio aveva creato un ottimo esercito con il quale aveva cercato di espandere i domini della sua corona aveva cercato in particolare di conquistare la parte meridionale rispetto al suo regno che all'epoca era nelle mani dell'emiro di Saragozza negli ultimi anni però le cose non gli erano andate tanto bene perché due volte aveva cercato di attaccare tra la fine degli anni 80 dell'undicesimo secolo e l'inizio degli anni 90 ma entrambe le volte era stato sconfitto dalle truppe dell'emiro ma soprattutto dal loro comandante che non era musulmano ma era cristiano e si chiamava o verrà chiamato di lì a poco El Sid Campeador El Sid Campeador per chi non lo conoscesse è una delle più grandi leggende della reconquista è considerato un po' il simbolo del comandante cristiano che riconquista terre ai musulmani ma quella è la leggenda anche se in realtà in effetti negli anni successivi avrebbe conquistato e liberato la città di Valencia ma ripeto quella è la leggenda nella realtà come abbiamo già raccontato in Cash of General El Sid Campeador aveva più volte combattuto sia per i cristiani sia per i musulmani e in quegli anni era stato comandante delle truppe di Saragozza e per due volte era riuscito a respingere al comando dei musulmani le truppe del cristianissimo re d'Aragona finalmente nel 1093 El Sid abbandona Saragozza e si sposta a Valencia e qui un po' inizierà la sua leggenda e senza più quella minaccia finalmente Sancio Ramirez nel 1094 decide di lanciare una nuova campagna direzione Huesca che era una delle città più importanti della zona nelle mani dell'emiro di Saragozza l'assedio durerà due anni fino al 1096 ma Sancio non lo porterà a termine perché pochi mesi dopo l'inizio dell'assedio sarà colpito da una freccia e sarà sostituito dal figlio che si chiamava Pietro Ramirez finalmente nel 1096 con la cittadina che sta quasi per cadere nelle mani cristiane l'emiro di Saragozza decide di organizzare un esercito e con quell'esercito marciare contro i cristiani e annientarli secondo gli storici la battaglia che ne venne fuori cioè la battaglia di Alcoraz sarà vinta dai cristiani grazie alla miglior qualità delle loro truppe una situazione che in effetti progressivamente da questo momento in poi andrà a diventare sempre più importante nella lotta tra le due fazioni religiose secondo la tradizione però a favorire i cristiani che all'inizio della battaglia erano in netta inferiorità numerica sarà un aiuto divino secondo quanto si racconta Pietro avrebbe lanciato il proprio attacco contro i musulmani che però non solo erano più numerosi ma erano comandati da quattro comandanti quattro comandanti valorosissimi ognuno al comando di una parte dell'esercito che stavano lentamente annientando le truppe cristiane ad un certo punto però dal nulla sarebbe sbucato un cavaliere armato di tutto punto con la sua spada il suo scudo che si sarebbe lanciato da solo in mezzo alle file musulmane aprendosi la strada a colpi di spada fino a raggiungere e uccidere uno dopo l'altro tutti e quattro i comandanti tutti e quattro i principi perché questi erano erano quattro principi musulmani che sarebbero stati raggiunti da questo cavaliere che avrebbe tagliato loro la testa alla fine della battaglia con i musulmani fuggiti dopo aver visto quello che era successo ai loro comandanti il re d'Aragona Pietro avrebbe cercato quel cavaliere ma non l'avrebbe trovato e l'unico resto lasciato dal cavaliere sarebbe stato uno scudo che portava disegnato su di lui la croce di San Giorgio perché quello per loro era un miracolo e quel cavaliere non era nient'altro che San Giorgio stesso intervenuto a cacciare i musulmani una volta che cercarono sul campo di battaglia trovarono anche i corpi dei quattro comandanti dei quattro principi uccisi o meglio trovarono le loro teste quattro teste quattro teste di moro ognuna con una piccola corona quelle quattro teste con quattro corone sarebbero state messe nella croce di San Giorgio e sarebbero diventate un vessillo un vessillo portafortuna utilizzato dall'esercito del regno d'Aragona questa apparizione è secondo gli storici molto più credibile non ovviamente l'apparizione di San Giorgio il fatto che sia nata come vessillo di guerra in Aragona anche perché in effetti la vediamo apparire già in alcune rappresentazioni nel dodicesimo inizio del tredicesimo secolo e sono le più antiche rappresentazioni di questa bandiera che abbiamo abbiamo anche la possibilità di visualizzare come questa bandiera lentamente cambi come le quattro corone sulla testa dei mori che ci sono nelle prime versioni progressivamente diventino semplicemente delle bende semplificando in questo modo la bandiera e rendendola più facile da utilizzare la domanda però a questo punto è come ha fatto questa bandiera aragonese ad arrivare in Sardegna? beh ci è arrivata insieme all'esercito aragonese perché negli ultimi 1295 il re d'Aragona ricevette dal papa il permesso di invadere e conquistare la Sardegna e la Corsica che vennero elevate a regno il regno di Sardegna e Corsica e questo senza minimamente preoccuparsi né di qual era la volontà dei sardi né di qual era la volontà degli stati che la Sardegna e la Corsica già avevano iniziato a conquistarla cioè Pisa e Genova perché quando gli Aragonesi iniziarono effettivamente la conquista dell'isola e siamo all'inizio del XIV secolo grosso modo la Sardegna non era più esattamente autonoma ma a furia di chiamare in aiuto i Pisani a furia di essere alleati militari dei Pisani questi ultimi e un po' anche i Genovesi avevano iniziato ad allungare i loro mani sull'isola a conquistare ora un porto ora una piazza forte ora una città e progressivamente avevano preso il controllo di gran parte dell'isola strappandolo ai suoi abitanti ai Sardi strappandolo a quasi tutti giudicati con l'unico giudicato che ancora sopravviveva autonomo cioè giudicato d'Arborea gli Aragonesi arrivarono sull'isola ci misero 40 anni la conquistarono letteralmente pezzo per pezzo ma alla fine riuscirono a farne un loro dominio e rimarrà un dominio spagnolo fino al 1720 o meglio spagnolo poi a Sburgico d'Austria fino al 1720 a questo punto gli Aragonesi iniziano ad utilizzare la loro vecchia bandiera di guerra come simbolo della Sardegna perché non lo sappiamo esattamente come sia avvenuto questo passaggio ma ad un certo punto la bandiera che era uno dei simboli dell'Aragona inizia a essere utilizzata per la Sardegna mentre per indicare l'Aragona o in generale o la Catalunia si inizia a utilizzare un altro simbolo i cosiddetti quattropali aragonesi o quattropali catalani l'avete già visto penso su tantissime immagini che poi è il simbolo che rappresenta ancora adesso il regno d'Aragona nello scudo del regno di Spagna che è esattamente quello e non la bandiera dei quattro mori la bandiera dei quattro mori diventa invece il simbolo del regno di Sardegna e Corsica tanto che gli Aragonesi fanno anche una bandiera simile per la Corsica che è utilizzata ancora adesso e che non usa quattro teste di moro ma ne usa una sola la vedete qui a fianco ma per il resto è assolutamente simile in realtà gli Aragonesi non riusciranno se non per brevi periodi a mettere le mani sulla Corsica che invece rimarrà in mani spagnola che la Sardegna da questo momento inizia ad utilizzare quella bandiera lo sappiamo grazie a una marea di fonti una delle più classicamente citate devo essere sincero anche più belle è questo dipinto qua che mostra la cerimonia funebre di Carlo V avete presente Carlo V imperatore spagnolo e degli Asburgo che aveva unito i due imperi nelle sue mani quello su cui su cui impero non tramontava mai il sole ebbene alla sua cerimonia funebre secondo la tradizione erano presenti dei rappresentanti di ognuna delle province del suo impero ognuna delle quali portava non solo una bandiera della sua provincia ma anche un cavallo con una gualdrappa che è quello che si mette addosso al cavallo che mostrava proprio il simbolo di quella provincia nel caso della Sardegna lo vedete qui a fianco e ancora una volta la bandiera con le quattro mori con le quattro teste di moro quando i Savoia nel 1720 scambiarono il dominio della Sicilia che avevano ottenuto con la pace di Utrecht pochi anni prima con quello della Sardegna mantennero quella bandiera come simbolo del loro nuovo regno inserendovi però all'interno ovviamente lo scudo dei Savoia come loro rappresentanza da questo momento in poi la Sardegna sarà indissolubilmente legata a quella bandiera ed è una cosa incredibile perché quando poi negli anni nel ventesimo secolo nacquero i movimenti autonomisti sardi che in qualche modo perdurano ancora adesso e cercano di puntare all'indipendenza della Sardegna quella bandiera senza preoccuparsi di quale fosse la sua provenienza sarà recuperata e trasformata anche in un simbolo dell'autonomismo questo nonostante sappiamo per certo che già all'epoca parliamo dell'inizio del Novecento molti storici avessero avanzato grossi dubbi sull'origine sarda di quella bandiera ed è probabilmente proprio in quel periodo tra la fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento che iniziano a diffondersi delle leggende legate a Musetto e alla sua testa e ai quattro giudicati probabilmente partendo dalla bandiera e cercando a posteriori una giustificazione ci sono però altre tre curiosità la prima vi ho detto che la benda inizialmente si trovava sulla testa ad un certo punto nel periodo di nominazione Savoia la benda venne abbassata e portata sugli occhi perché avvenne non lo sappiamo si pensa che sia stato semplicemente un errore ma da quel momento per quasi due secoli la benda rimarrà sugli occhi fino a che circa una ventina d'anni fa la Sardegna decise di ripristinare il vecchio simbolo e rialzò la benda a livello del capo la seconda curiosità è legata alla Corsica l'avevo detto hanno una bandiera simile bene la Corsica oggi utilizza quella bandiera perché è un simbolo della sua autonomia ora la Corsica ve l'ho detto non venne conquistata dagli spagnoli ma rimase in mani genovesi a metà del XVIII secolo il più grande patriota corso un uomo che era ammirato persino dallo stesso Napoleone si chiamava Pasquale Paoli e sarà proprio lui a recuperare quella bandiera per opporsi ai dominatori che fossero genovesi o che fossero francesi trasformandola nella bandiera della Corsica non era una bandiera originaria del posto anche se anche in questo caso venne creata una leggenda ma non importa anche in questo caso non è tutto inventata ma probabilmente essendo una bandiera comunque di uno stato che la Corsica non aveva dominata era decisamente più accettabile piuttosto che la bandiera genovese la terza curiosità è che la bandiera della Val d'Aosta è rossa e nera mentre quella della Basilicata rappresenta il mare blu con le onde blu con le onde bianche lo so che l'avevate già controllato ma se qualcuno non ha resistito fino adesso sono contento di dargli la risposta bene spero che questa pillola vi sia piaciuta spero che i sardi a cominciare da Antonella non mi mangino vivo perché ho raccontato qualche stupidaggine spero che sia tutto corretto se volete riascoltarla potete farlo qua come tante altre pillole qua su Youtube potete farlo ovviamente sul nostro podcast lo trovate in descrizione e per il resto se volete propormi pillole o addirittura scriverle contattatemi sui social su Facebook Instagram Telegram oppure sulla mail e per il resto come sempre la cosa più importante è essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao